Angelo, ma tu sei il carmelito più scatenato! Con la scusa delle trasmissioni, chissà, chissà, se le batte il cuore o davvero non ci sta, ma un giorno tutto cambierà e il suo cuore già batterà per me. E se scopriri o potrò che mi tradirà, da mamma ritornerò, ecco il perché. Barbara D'Urso è la donna più invidiata, sempre eseguita, elegante, dolce, amara, preparata. Perché, perché, in televisione non ci porti pure me, ma un giorno tutto cambierà e il suo cuore già batterà per me. E se scopriri o potrò che mi tradirà, da mamma ritornerò perché, perché. Barbara D'Urso è la donna più invidiata, sempre eseguita, elegante, dolce, amara. Preparata perché, perché, in televisione non ci porti pure me, è dolce, amara e fa impazzire anche me, in televisione non ci porti pure me. È paura! È paura!